Le macchine si guastano con l'uso, i violini con il riposo. Chissà cosa penserebbe lo studioso Giuseppe Prezzolini a cui appartiene l'aforisma se visitasse la scuola di Liuteria di Gubbio. Nascosta in un'ala del complesso di San Pietro, accanto agli uffici economici del comune di Gubbio, in fondo ad un corridoio che mostra i segni del tempo e delle infiltrazioni d'acqua, la scuola è una delle poche presenti al mondo in cui si insegna l'arte della liuteria, ovvero la realizzazione artigianale di strumenti ad arco e a pizzico. In Italia c'è a Cremona, Milano, Brescia, in Europa, in Germania e in Inghilterra che insieme a quella di Gubbio costituiscono l'eccellenza in questo settore. Quando nacque nel 1978 su intuizione del maestro guerriero Spataffi, l'ultimo liutaglio rimasto di una secolare tradizione, fu subito un successo. Io credo che siano oltre 350, quasi 400 studenti in tutto il mondo, arrivavano a tutto il mondo, praticamente dall'America latina a tutta l'Europa. Non abbiamo visto inglesi perché essendoci una scuola a Londra, magari lo hanno frequentato per Londra, ma i tedeschi pur essendo una scuola a Mittenwald in Germania, ne hanno venuto una sfrotta qui addirittura. Se no ce l'avamo da tutto il mondo, pervenivano da Brasile, Argentina, Venezuela, tutta la Sud America e poi gli italiani da tutto il nostro, chiamato il nostro continente, arrivavano da tutto, dappertutto. Finanzata dal Fondo Sociale Europeo era articolata in tre anni, ciascuno di 900 ore, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e 30, nei mesi che da ottobre proseguivano fino a giugno. Una scuola di alta formazione professionale, riconosciuta da provincia e regione, un'eccellenza dell'artigianato. Da qui sono usciti i maestri liutai che hanno portato la loro esperienza in tutto il mondo e di cui restano a memoria i nomi, tanti sono orientali, incisi nei violini e violoncelli realizzati nel laboratorio scolastico. L'accorpamento con la Gubbio Cultura e Multiservizi, la società multiservice cittadina, capitale pubblico, oggi in grave crisi finanziaria, non fu felice per questa scuola che vide calare fondi e studenti fino a luglio del 2014, quando si diplomarono gli ultimi corsisti. Da allora le aule sono vuote, i violini non suonano più, le chitarre, i contrabbassi, le viole, i violoncelli sono arredi muti di uno spazio sconosciuto anche a molti ugubini, in attesa che il comune rilanci il progetto. Aspettiamo che l'amministrazione risolva questo problema perché mi sembra una cosa assurda buttare via un'eccellenza a questo livello. Ci abbiamo sei, sette scuole in tutto il mondo, una è Gubbio. È brutto far sì che concluda tutta questa operazione nostra che è in moto ormai dal 1978 e risale anche ai vecchi tempi che noi ci avevamo avuto dei utai, da settecento in poi, non eravamo come Cremona ma ce ne avevamo avuti abbastanza. In questo spazio che conserva ancora intatti i banchi da lavoro, i piccoli chiodi, gli arnesi per l'intaglio, quelli per la verniciatura, gli strumenti musicali prendevano forma da semplici tavole di legno e solo la maestria del iutaglio, nello scegliere i materiali e nel lavorarli faceva la differenza tra un buon o un ottimo strumento musicale che nasceva in un arco di tempo variabile, non inferiore ai tre mesi, dove ogni fase aveva i suoi processi dettati dalla tradizione. Questo è un taglio radiale della pianta, sarebbe come un'arancia, i spicchi. Una volta tagliato per simmetria le parti più vicine tra loro venivano assemblate e incollate e questa era la tavola armonica superiore, valeva anche per il fondo d'acero, la stessa cosa. Da dove vengono questi legni? I legni questi sono della Val di Fiemme italiana, la nostra, Val Canale, le Alpi italiane, poi invece gli aceri sono della Croazia, dai Balcani diciamo, vengono, Slovenia, Bosnia, gli aceri e i legni praticamente che compongono il violino sono tre, abete, acero e ebani, fondamentalmente l'ebano. Si potrebbero fare anche dei legni alternativi che potrebbero essere dei palissandri, le montature cioè i biscari, la tastiera, la cordiera, però fondamentalmente è l'ebano. Questo è un supporto dove vanno costruite le fasce. Questo è già in lavorazione, il fondo che viene sgusciato all'esterno e scavato all'interno. Una volta fatto la sgusciatura interna e esterna alla costruzione delle fasce, andremo ad assemblare il fondo alle fasce. Automaticamente metteremo sopra la tavola armonica e chiuderemo questa cassa armonica. Poi avremo la lavorazione del manico, dal legno grezzo, sempre tagliato in modo radiale e cominceremo le prime fasi di lavorazione del manico, fino a raggiungere la lavorazione dello scasso dei piroli e la lavorazione dietro. Qui eccolo, lo possiamo vedere. Qui c'è già una fase di lavorazione, qui ancora no. Poi, una volta che è assemblato tutto lo strumento, incastreremo questo manico sullo strumento e avremo il violino, diciamo, finito, grezzo, ma finito. Da quel momento in poi subirà una trasformazione, che sarà la verniciatura dello strumento. La verniciatura ha una sua filosofia, vero? Sì, bisogna attendere dei tempi un po' particolari per la verniciatura. Uno, c'ha degli ambienti asciutti, belli e riscaldati, se no noi lavoriamo molto bene da maggio a settembre. Ci porta via anche un paio di mesi abbondanti la verniciatura. Un oliutaio professionista fa prima fare lo strumento che la vernice stessa, addirittura. Ci sono anche cromie diverse, vero, degli strumenti? I colori vanno dal giallo napoletano al rosso cupo della vernice veneziana, cremonese o bresciana. In un'epoca che velocizza i processi, che stampa in 3D, che sforna catene intere di oggetti pensati per l'usegetta piuttosto che per essere duraturi nel tempo, il liutaio è uno degli ultimi baluardi dell'artigianalità vera. Un mestiere che è passione, ma che se fatto con intelligenza può essere foriero di successo anche economico. Capire il valore di tutto questo e crederci è il primo passo sulla strada della riapertura. Io spero tanto.